Pioggia e forti mareggiate hanno già lasciato il segno nelle spiagge a Sassonia di Fano. In questo video che ci ha inviato un nostro telespettatore si può già notare infatti il grosso dislivello lasciato dalle onde del mare. Torna a farsi sentire dunque il problema che mette in ginocchio i gestori degli stabilimenti balneari e gli operatori turistici in cerca ormai da tempo di una soluzione definitiva. Noi intanto avevamo sollecitato questo intervento per la spiaggia di Sassonia anni fa e l'intervento si è fatto per merito nostro, per merito di Osi Confartigianato. Però noi avevamo chiesto di fare l'intervento fino al porto e invece per mancanza di risorse è stato fatto inizialmente fino a Bagni Sergio e poi grazie all'intervento del Comune si è arrivati fino all'anfiteatro Rastat. Ora quello che sta succedendo questi giorni e quello che è successo anche negli anni scorsi dimostra che avevamo ragione noi e che bisogna arrivare senza meno fino al porto. Quindi bisogna che il Comune programmi gli interventi per realizzare le ultime tre scogliere che mancano fino al porto, riperisca le risorse necessarie e intervenga. Noi ovviamente chiediamo che venga fatto tutto l'intervento, poi dopo se il Comune non ha le risorse necessarie per farlo tutto, lo vuole fare a Stralci, che lo faccia anche a Stralci. L'importante è che faccia molto presto, che nel giro di un paio d'anni si chiuda il discorso e si arrivi fino al porto in modo tale che tutte le concessioni siano giustamente tutelate. Adesso per quanto riguarda Bani e Maurizio si farà sicuramente prima dell'inizio della stagione un intervento di ripascimento ordinario, come è stato fatto l'anno scorso. Il mega ripascimento che era riprevisto dal progetto originario, che costava circa 100 mila euro, non sarà fatto perché le risorse saranno utilizzate per le scogliere, per gli interventi strutturali. Però utilizzeremo le risorse che ogni anno la Regione mette a disposizione per fare i ripascimenti ordinari. Sicuramente ci sarà bisogno, speriamo che l'intervento strutturale venga fatto prima dell'inizio della stagione e quindi nel giro di due mesi, almeno una scogliera intanto, almeno una. Però ovviamente l'obiettivo nostro è quello di arrivare fino al porto nel giro di due anni al massimo.